Si chiama Lauren Gooder, Bulger, è una donna giovane ed è una showgirl molto famosa e renomata in reality show. La donna non riesce ad avere una tranquillità e una pace, infatti ha chiesto ai medici di un ospedale di seguire l'autopsia del corpo della figlioletta perché vuole sapere perché la bambina è morta. La donna di 35 anni d'età inglese, infatti pensa che l'ossigeno possa essere stato limitato e quindi ecco perché ha chiesto che la bambina venga a essere messa in autopsia. In pratica la donna ha preso in braccio la bambina, la figlia ha scoperto che la bambina non respirava. Un dramma in piena regola per questa donna giovane, bella, sexy e affascinante che adesso cerca o meglio vuole sapere la verità e per ottenerla fa di tutto, anche eseguire l'autopsia sul corpo di questa povera bambina. Cosa sarà di questa cosa di cerire che cosa dirà l'autopsia? Non si sa, e poi si è la dosi intensa. Intanto una bambina non c'è più. Da Nara Twitter è tutto, ciao a tutti e buona serata.